Mi impressiona sempre sentire di persone a cui è capitato di subire un incidente per colpa di altri che erano alterati per droga, per alcol, per distrazione, perché erano al telefono o per qualsiasi altro motivo. Queste cose non dovrebbero accadere, persone senza colpa rischiano di essere vittime gravi di incidenti veramente dannosi. Spero che avere notizia di queste cose faccia prendere coscienza che siamo responsabili non solo di noi stessi, ma anche degli altri, che rischiamo di fare del male, di distruggere la vita di altri per un attimo di distrazione o per una decisione irresponsabile di guidare senza essere nelle condizioni adeguate per farlo.